Games Godfall, guardate ragazzi che capolavoro di gioco prima che lo danno settimana prossima su il Plus che comunque non è la versione completa del gioco vi voglio presentare questo capolavoro che ho già portato su Youtube anche qui per gli amici di Twitch no, questo qua 79 allora vi faccio vedere un attimo le mie armi 51 un anellino e un ciondolo, un amuleto vediamo un attimo se riusciamo a comprare qualcosa questa la vorrei acquistare un anellino allora 15 velocità scudo se spirit è detenuto danno a terra io preferisco questo spero che questo ti aiuta spero che il rischio ah ovviamente volete fare carica termica, l'arma secondaria, volete stendarlo, volete stendarlo allora, ti danno a terra, danno punti neboli, danno a cerramento, io potrei comprare questo allora andiamo subito a equipaggiare ok, dopo, vabbè, mettiamo questa, ok, l'anello allora, l'anello 548, ok, l'anello, allora vi vediamo un secondo come sono messo, che cos'è che è? ah, è l'amuleto, che lui comunque non ce l'ha, non ce l'ha, vabbè, finito ok 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 andiamo con questo c'è questo raga c'è lo stronzo che si è curato porca ciao ragazzi god full marco drag ok vieni prontone guarda guarda lo stronzo come on ok 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 una bella lama mi ha dato ok 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 Grazie a tutti. 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 No dai non sono stato attento. Grazie a tutti. Uso il sigillo, terra. Grazie a tutti. 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 Porca loco. Porca loco. Grazie a tutti. Cazzo dietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. Porca loco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo. la parola. Grazie a tutti. Un chiede a tutti. Un chiede a tutti. Un... Piazza. Un chiede... Un chiede. Un chiede a tutti. Un chiede a tutti. Un chiede a tutti. Ah, c'è lignato. Allora, allora, vai, vai, vai il cazzone. Ah, è andato. Sì. Va, va. Questo gioco, raga, è spettacolare a livello grafico di combattimenti, di gameplay, quanta roba dà. Figo. Figo. Che cos'è quella roba lì? Che cos'è quella roba? Che cos'è quella roba? Che cos'è quella roba? Hmm. Che cos'è mai scoperto una chance di rivelare in sua gloria. Allora, io ho visto che è qua sotto. Hmm. 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 Oh 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 Beh, in realtà dovevo andare di qua. Sanctum, come completi sono i tuoi archivi? Non è vero. Una volta i macros mi fermavano, ho stoppito di ottenere nuovi ricordi all'interno. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo dopo. Ho altri giochi, perché a me piace cambiare. Che cosa fai? Uh, 79, 59, è tutto un po' bassino. Mi incanta cosa vuol dire. Porca! Eh sì. Uh, eh sì. Posso incantare. Vediamo se si può. Ok, così salgo un po'. Ciao. 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 così è una bella carta da 5 mancano materiali manca proprio materiali mancano materiali cazzarola vabbè dai un 96 non è male non è male non è male e niente da godfall ragazzi marco dranz vi saluta ci vediamo dopo mi raccomando di seguire il canale youtube facebook twitter instagram tiktok per attivare la campanina su youtube e twitch un bel mi piace commentate e portate gente sul canale devo arrivare a 50 iscritti su twitch per essere affiliato ragazzi dai datemi una mano grazie mille ciao ragazzi e su youtube voglio arrivare a aspettate fatemi vedere quanti siamo su youtube dai 208 arriviamo 250 dai 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 che ce lo facciamo ciao ragazzi un saluto e un abbraccio dal vostro mitico marco dranz games ciao ragazzi a dopo